Salve a tutti, in questa pillola parlerò brevemente del come organizzare un account di Azure DevOps. Il primo problema infatti che si incontra solitamente quando si approccia per la prima volta a questo strumento è che lo strumento è sicuramente completo ma delle volte è complesso e quindi ci si chiede subito come strutturarlo, come suddividerlo. Innanzitutto voi potete vedere qui a sinistra che quando avete effettuato il login a devazure.com quindi Azure DevOps siete fondamentalmente loggati e il vostro account ha accesso ad alcune organizzazioni. Queste organizzazioni sono sostanzialmente ognuna isolata dalle altre, la riconoscete dalla URL che avete nel vostro browser e la prima divisione che potete fare è quella di usare più organizzazioni per i vostri progetti. La ragione per utilizzare più organizzazioni per i vostri progetti è semplicemente una questione di isolamento completo e assoluta impossibilità per una persona che viene aggiunta nell'organizzazione Gian Maria Ricci EU di avere, di vedere, di ritrovare qualsiasi informazione che possa essere inserita in qualcun'altra delle vostre organizzazioni. Sono account completamente separati quindi vedeteli come una maniera per avere la possibilità di segregare completamente le informazioni. All'interno di un singolo account chiaramente si possono ottenere delle ulteriori suddivisioni e la suddivisione principale è il progetto. Ora purtroppo il nome può essere fuorviante perché quando avete un'organizzazione senza progetti vi viene detto create a project to get started quindi create un progetto ma nella realtà dei fatti quello che voi andate a creare non è assimilabile nella vostra testa a quello che è veramente un progetto è più una scatola chiamiamola scatola chiamola per ora scatola A e decidiamo che la sua visibilità è privata possiamo decidere il version control che abbiamo anche se è una decisione che può essere cambiata dopo la cosa importante è qual è il processo da usare e di questo ne parleremo dopo per ora prendiamo il processo di default che è l'agile una volta che voi andate e create un team project perché il termine esatto è team project state creando una scatola ora riandando in azure devops quindi cliccando in alto a sinistra avete tutta la lista delle vostre scatole qual è la ragione perché voi potete crearne direttamente diverse scatole qual è la ragione per fare più scatole bene la prima ragione è se voi avete differenti progetti che necessitano di una maniera differente di gestione quindi un diverso tipo di processo spiegheremo in pillole successive cos'è un processo ma in generale dovete sapere già da subito che un processo una scatola utilizza un solo processo quindi una scatola che utilizza il processo scrum avrà i suoi oggetti con la nomenclatura scrum quindi bug product backlog item eccetera una scatola con il processo agile avrà le user story e tutte le nomenclature tipiche del progetto agile ora una delle ragioni più importanti per suddividere il vostro vostra organizzazione quindi la mia gian maria ricci o in più scatole è anche qui principalmente una questione non solo di processo differente ma di autorizzazione quello che noi possiamo sapere infatti è che se andiamo a mettere un utente nella scatola b questo utente all'interno della scatola b vedrà il codice bug requisiti e quant'altro la parte pianificazione le pipeline i test e gli artefatti della scatola a e non li vedrà se non è inserito anche nella scatola b ora la cosa interessante è che comunque se un utente è inserito sia nella scatola a sia nella scatola b quindi sostanzialmente è inserito in entrambi in due team project può comunque interrogare il sistema con ad esempio requisiti bug che derivano da tutte e due le scatole quindi la suddivisione è una suddivisione di autenticazione ma è possibile nel sistema avere una visione di tutte le cose che ci sono nelle varie scatole cosa che è impossibile se voi create due organizzazioni due organizzazioni sono due urla differenti non avete modo di interrogare gli elementi insieme tra di loro a meno di non esportarli in power bi in un'altra soluzione che vi permette di aggregarli chiaramente a un certo punto voi dovrete entrare in una scatola e iniziare a metterci qualcosa quindi vediamo cosa c'è dentro una scatola brevemente un team project è un contenitore sostanzialmente di work item ovvero tutte le informazioni che sono di pianificazione di gestione quindi avete epic issue task questa è un work è un team project tipo basic e quindi ha molte meno cose se noi per esempio giusto per farvi percepire qual è la differenza fra i vari vari processi se noi prendiamo un processo agile vedete abbiamo molte più cose bug epic feature issue task test case e user story ora noi sicuramente dentro questo team project abbiamo work item quindi queste informazioni abbiamo dei repository di base lui vi crea un repository git ma ne potete creare quanti volete potete anche usare contemporaneamente a git un repository di tipo tradizionale il vecchio centralizzato tfuc di team foundation server avete una serie di pipeline che sono pipeline di build e release continuous integration e continuous deployment ambienti dove rilasciare rilasci eccetera eccetera test plan e artifact ma ora a questo punto la domanda viene fuori un mio progetto reale ovvero io ho una software un'agenzia software faccio un progetto per un cliente quello che nella mia testa è un progetto dove lo vado a mettere crea una scatola per progetto più progetti in una scatola questa è la domanda che tutti si pongono ora per dare una risposta abbastanza semplice la risposta è dipende ma generalmente il consiglio che viene dato è quello di creare meno scatole possibili perché è sempre possibile andare dopo a dire il progetto ho creato il progetto a b e c l'ho messi tutti nella scatola a a un certo punto c'è il progetto d che è differente lo metto in un'altra scatola molto più complicato al contrario ovvero dire io ho creato una scatola per progetto e poi mi accorgo che li voglio tutti insieme ora solitamente un progetto cos'è un progetto è sicuramente parte con una serie di requisiti bug work item e quant'altro per cui per questa ragione quello che noi vogliamo è avere un posto dove possiamo vedere il backlog terminologia agile ma vogliamo sapere tutte le cose da fare questa cosa in questo aspetto in azure devops si chiama team andate qui in basso a sinistra sui project settings e anche qui purtroppo il la nomenclatura non è perfetta nel senso che nella testa di una persona che utilizza il sistema il termine team è associato a un di persone il che è vero ma a discapito di quello che potete pensare in realtà un team in azure devops è più assimilabile a quello che voi chiamate progetto perché ad esempio quello che viene fatto quando voi create una scatola quindi un team project è creare automaticamente un team con lo stesso nome della scatola del team project che avete creato ma voi potreste aggiungere un nuovo team e chiamarlo progetto unicorn potete mettere degli utenti dentro in future pillole spiegheremo esattamente quello che viene tutto il significato di queste configurazioni per ora prendetele come default quindi avete il progetto unicorn e avete il progetto legacy ora quello che succede è che noi stiamo andando ad inserire all'interno di una scatola quindi all'interno di un team project quelli che sono per noi i progetti reali e possiamo associare a questi team chiaramente i membri quindi in realtà noi assegneremo a ogni progetto le persone che tendenzialmente dovranno lavorare con quel progetto ed è chiaro che una persona può appartenere sicuramente a più team e quindi a più progetti quello che abbiamo ottenuto con questa semplice configurazione è tornando nella parte dei work item e andando ad esempio nei backlog avere un backlog per ognuno di questi progetti rimane il progetto il team è creato automaticamente dal sistema che ha lo stesso nome della scatola quindi lo stesso nome del team project scatola che voi potete cancellare per ora l'ho lasciato poi avete gli altri due progetti quindi se io vado nel progetto legacy backlog avrò il backlog quindi tutte le informazioni tutte le cose da fare di questo progetto legacy e quindi andrò a iniziare a mettere le user story e quindi dirò fare pagina di login creare struttura base database per integrazione google insomma create il vostro backlog ma qui vedete che avete una combo che vi permette di spostarvi in altri backlog quindi in altri team quindi se noi stiamo sul progetto legacy e poi invece andiamo nel progetto unicorn noi vediamo che le cose da fare sono sostanzialmente vuote perché questo è un altro progetto e quindi avrò un altro backlog quindi sostanzialmente progetto unicorn first page e switchando tra questi due team voi in realtà avete due completi progetti differenti quindi avete in realtà la possibilità di gestire il backlog quindi le cose da fare dei più progetti rimane chiaro che comunque voi potete fare delle query ad esempio che interrogano lo strumento chiedendo ad esempio tutte le user story se io voglio tutte le user story quello che succede è che una query mi permette di vedere effettivamente tutte le storie indipendentemente da quale è il team a cui sono associate come ultima nota per questa introduzione possiamo scegliere come colonna la colonna area path che sostanzialmente è un parametro molto particolare che serve al sistema per capire dove sono associati a quale team e quindi a quale progetto sono associati i nostri work item quindi come potete vedere io ho la possibilità di fare interrogazioni al sistema per fare un'interrogazione su tutti su tutte le informazioni che ho su tutti i team che sono progetti oppure la possibilità di andare nel backlog nelle board e di andarmi a vedere backlog o board che appartengono solamente a uno o l'altro progetto quindi la consiglio che do solitamente è quello di iniziare con poche scatole quindi pochi team project per poi andare a dividere il team project in sotto team che sono quelle entità che più spesso si associano con quello che è un vostro progetto e poi andare così ad avere più backlog nella prossima pillola vedremo invece come poter gestire l'autorizzazione e l'autenticazione cioè il filtrare le informazioni che gli utenti possono avere tra progetti sempre che questo sia necessario perché come vi ho detto prima l'unità di sicurezza è la scatola quindi tutto il team project ciò vuol dire che se io metto Gian Maria dentro il team progetto unicorn è chiaro che Gian Maria potrà comunque vedere tutti i work item anche quelli degli altri team potrà vedere il codice qualsiasi repository che è in questa scatola qualsiasi pipeline eccetera a meno che non vadano fatte successive restrizioni quindi una possibile regola è se i vostri progetti sono molto isolati e per voi la normalità che una persona che sta in un progetto molto probabilmente non sta negli altri e non deve vederne né le informazioni né il codice né nulla potrebbe essere invece più interessante adottare l'approccio in cui ogni progetto ha una sua scatola separata alla prossima pillola